Musica Turista trovato morto, decesso poco dopo l'SOS. Sarebbe morto 40 minuti dopo aver lanciato l'allarme, sono le prime ipotesi, sulla tragedia nel Cilento dell'escursionista francese Simone Gautier. La procura di Vallo della Lucania ha aperto una inchiesta anche sui ritardi nei soccorsi. Rastrelli e polemica, rigurgiti fascisti, il segretario della Cigelle Campania chiede di far fronte comune per evitare episodi del genere in futuro. E Borrelli dei Verdi accusa, assurdo che le autorità non siano intervenute, ora indaga la Digos. Tragedia del Sagno, sedicenne si uccide, successo a Monte Falcone di Val Fortore. Ancora da chiarire le cause che hanno spinto un sedicenne a farla finita. Il corpo senza vita del ragazzo, trovato in un capanno agricolo, attiguo all'abitazione dove viveva. Travolto e ucciso, l'ira del sindaco, la tragedia causata da un immigrato irregolare. Il primo cittadino di Castelvolturno chiama Salvini e chiede aiuto per il litorale Domizio, diventato zona franca, della malavita con 25.000 clandestini. Intanto dal carcere il 37enne ucraino dice di non ricordare nulla perché era ubriaco. Cultura e turismo, Male, Irpinia e Sagno lo confermano i dati del Sole 24 Ore sul Tempo Libero per la classifica sulla qualità della vita. Avellino e Benevento sul fondo per la permanenza media nelle strutture ricettive. Napoli e Terza a livello nazionale, Irpinia ultima per spettacoli e teatro lo scorso anno. Ma il Gesualdo era chiuso. Tom Mariello d'Oro, show del sindaco, edizione da record per la rassegna condotta da Massimo Giletti lungo il corso di Avellino. Premiati Irpin illustri, diventati famosi a livello nazionale. Applausi del pubblico per il sindaco festa sul palco, così la città è tornata a vivere. Buonasera, ben trovati. Nuova edizione del TG News regionale del canale 696 TV8 Channel. Abbiamo seguito insieme i nostri titoli e come avete sentito in primo piano c'è la tragedia dell'escursionista francese trovato morto dopo giorni. Parliamo di Simone Gautier, la procura di Vallo della Lucania nel Vallo di Diano indaga per i presunti ritardi nei soccorsi. Una primissima ipotesi è quella di una morte rapida che sarebbe sopravvenuta comunque 40 minuti dopo aver lanciato l'allarme, ci racconta tutto, Giovan Battista Lanzilli. Sarebbe morto dopo nemmeno un'ora dal momento in cui è precipitato nel dirupo e aver chiesto aiuto. È la prima ipotesi sul decesso di Simone Gautier, l'escursionista francese di 27 anni che ha perso la vita sui monti del Golfo di Policastro. La causa del decesso che dovrà essere confermata dall'autopsia disposta dalla procura che ha aperto un'inchiesta, la frattura di una gamba che avrebbe provocato la recisione dell'arteria femorale, da qui l'emorragia fatale. Gli inquirenti hanno confermato che il corpo del giovane transalpino era in avanzato stato di decomposizione, particolare che confermerebbe la morte avvenuta subito dopo la caduta. La salma si trova ora all'ospedale di Sapri, dove si trovano anche i familiari di Simone e il console francese. I soccorritori hanno ricostruito le fasi delle ricerche e ipodizzato come possa essere maturata la tragedia. Sicuramente lui è partito seguendo un sentiero. Questo sentiero che in parte era tracciato si perde, si perde nel senso non continuo quindi avrà seguito magari qualche sentiero battuto da qualche animale lì perché la zona è frequentata da animali e quindi avrà seguito qualche sentiero lì dopodiché lui si è perso. Ha smarrito il sentiero, aveva in cima una costa da attraversare che era difficile lì avrà pensato di salire. Salendo ha dovuto fare dei salti, ha dovuto forse anche arrampicare. Da quello là sicuramente da uno di queste pareti si presuppone sia scivolato giù. Intanto non si placano le polemiche, in particolare sui ritardi dell'Italia nell'adeguarsi alla normativa sulla geolocalizzazione automatica. In caso di chiamate ai numeri d'emergenza, la famiglia sta valutando il da farsi con un legale francese. Intanto a San Giovanni Appiro è lutto cittadino. Dolore anche in Irpinia per la morte dell'ex direttrice del Tg2 Ida Colucci che si è spenta oggi a 58 anni dopo una malattia nata a Roma nel 1960. Ha lavorato per Asca, nuova ecologia legambiente. La giornalista era di origine irpina e di Sant'Angelo Allesca. Il padre Carmine era un noto e apprezzato medico. Ha inoltre vissuto per un periodo a luogo sano. Entrò in Rai nel 1991, il 4 agosto del 2016. Subentrò a Marcello Masi, assumendo su proposta dell'allora direttore generale Antonio Campo Dall'Orto la direzione del Tg2, di cui era vice direttrice dal 2009. E adesso cambiamo argomento, parliamo dei rigurgiti fascisti dopo la morte di Antonio Rastelli e scoppia la polemica. Il segretario della CGL Campania chiede di fare fronte comune per evitare episodi del genere e Borrelli dei Verdi accusa assurdo che le autorità non siano ancora intervenute. Rossella Strianese. Non solo i saluti fascisti al funerale. Nella notte qualcuno ha voluto ricordare l'ex governatore Antonio Rastelli, morto a Ferragosto all'età di 91 anni, con uno striscione affisso davanti alla sede della regione Campania, su cui c'era scritto Il fascismo è etica, camerata Rastelli presente. A rivendicare l'iniziativa, il sito di estrema destra, Mare Nero, nel post firmato i camerati, viene ricordato Rastelli e si richiama la presunta etica fascista che avrebbe animato la sua amministrazione. Lo striscione è stato affisso davanti all'entrata laterale di Palazzo Santa Lucia, ma le guardie giurate in servizio notturno non si sarebbero accorte di nulla. Su quanto è avvenuto indaga la Digos, che ha già inviato un'informativa alla Procura sull'episodio del saluto romano ai funerali, quando una trentina di persone, tra loro anche l'assessore municipale Fabio Chiosi, hanno accolto l'uscita della bara con il saluto fascista e gridando per tre volte, camerata Rastelli presente. La polizia studierà anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sarà poi la Procura a valutare se ci sono gli estremi del reato di apologia del fascismo. Nel frattempo infuria la polemica. Il segretario della CGL Campania, Nicola Ricci, chiede che questi episodi vengano condannati con fermezza da tutto il mondo politico ed istituzionale. Nessuno può e deve sentirsi in dovere di far riaffiorare frasi e gesti che appartengono alla pagina più buia della storia del nostro paese. La città, le forze sindacali, politiche e dell'associazionismo devono fare fronte comune per evitare che episodi del genere avvengano in futuro, dice Ricci. Ferma condanna anche da parte del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, che parla di strumentalizzazioni grottesche e fuori luogo. Ci chiediamo, prosegue Borrelli, come sia possibile che qualcuno abbia potuto installare uno striscione del genere a pochi metri da una sede istituzionale, senza che le autorità intervenissero. E adesso la notizia dell'ultima ora che ci arriva dalla redazione di Benevento. Tragedia a Monte Falcone di Valfortore per un suicidio di uno studente di appena 16 anni. Il dramma si è materializzato intorno alle 15 quando i familiari hanno ritrovato il corpo del ragazzo in un capanno agricolo attiguo all'abitazione dove viveva con la sua famiglia. Inutili purtroppo i soccorsi sul posto dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito ed il medico legale incaricato dalla procura. Tra volte ucciso da un immigrato irregolare la rabbia del sindaco di Castelvolturno. Ai microfoni di 8 Channel. Il sindaco parla di un litorale domizio diventato zona franca della malavita e di oltre 25 mila immigrati irregolari. Vediamo. E' stato arrestato a Licola nel cuore della notte a poche ore dall'investimento mortale di un 34enne di Castelvolturno, il presunto pirata della strada, un ucraino irregolare di 37 anni che ha dichiarato ancora in preda ai fumi dell'alcol di non ricordare quanto accaduto. Una tragedia che si poteva evitare, tuona il sindaco di Castelvolturno Luigi Petrella che chiama lo Stato in un territorio come quello del litorale domizio diventato zona franca di migliaia di irregolari e della malavita incontrollata. Poteva essere evitata, sì, anche se devo dire che magari con dei controlli più, però in quella zona purtroppo parliamo di Pineda Mare, anche se c'era la presenza comunque di tutti gli accorgimenti per quanto riguarda sia pubblico illuminazione sia dei tossi su quella parte di strada. Se avessimo avuto la possibilità di potervi girare con delle forze di polizia quella parte del territorio, magari forse avremmo potuto evitare questo accaduto. Io ho rappresentato più volte anche al Ministro Salvini le difficoltà per quanto riguarda la nostra comunità, chiedendo anche al Ministro che lo Stato sia più presente sul territorio di Castelvolturno, anche con delle leggi speciali, perché siano date le misure straordinarie, alla nostra comunità per poter far fronte alle tante difficoltà che il territorio vive. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni, Antonio Borrelli, residente nella periferia orientale di Napoli, è morto mentre era in vacanza a Mykonos in Grecia. Il ragazzo si è sentito male a bordo di una moto d'acqua, accusato un malore ed è finito in acqua, annegando dopo qualche minuto. Le autorità greche hanno posto sotto sequestro la salma numerosi i messaggi di cordoio sulla pagina Facebook del povero ragazzo. Cambiamo argomento, qualità della vita, il sole 24 ore pubblica la classifica delle capitali italiane del tempo libero. Una fotografia in chiaroscuro, quella che ci arriva dai cinque capoluoghi campani. Vediamo. Tanti ristoranti e bar, tanti turisti, ma per chi vive in campagna la qualità della vita risente di un'offerta più che mai ridotta. La classifica della qualità della vita fotografata dal sole 24 ore restituisce un'Italia che sa godersi il tempo libero, ma fa riemergere anche le antiche contraddizioni tra nord e sud e più ancora tra aree costiere e aree interne della campagna. 12 gli indicatori che rilevano l'attrattività turistica e i servizi. Sul podio sale Napoli, che svetta il terzo posto della classifica nazionale per la presenza di turisti, con una permanenza media di tre giorni. Cresce Salerno, che va alla 38esima posizione, ma può contare su una permanenza media di quattro giorni, grazie anche alle rassegne come luci d'artista. Caserta a 76esima, mentre Avellino e Benevento sono in coda, rispettivamente alla 103 e 104esima posizione, con una permanenza media dei turisti di due notti, confermandosi mete di turismo a mordi e fuggi, soprattutto per le gite fuori porta. E infatti Benevento sale al 28esimo posto dell'elenco nazionale per numero di agriturismo. Ce ne sono 85 ogni mille chilometri quadrati. Per quanto riguarda il numero di ristoranti e bar, a sorpresa è Salerno, la città campana che offre di più, 19esima in Italia, con ben 748 locali ogni 100.000 abitanti, rispetto a Napoli che si ferma a 566 esercizi ogni 100.000 abitanti. Male, anzi malissimo, tutto ciò che riguarda l'offerta culturale, dalle librerie ai cinema, dalle mostre ai concerti, passando per gli spettacoli teatrali che addirittura vedono Avellino all'ultimo posto tra le 107 province italiane, anche se va detto che l'unico teatro della città, il Gesualdo, è rimasto chiuso per molti mesi. Infine lo sport, l'offerta di Napoli, nonostante le universiadi, rasenta lo zero e non esultano nemmeno le altre quattro province, a dispetto di quelle del nord, che offrono strutture e spazi adeguati. E in una Napoli ancora vuota per le ferie, quello che non mancano sono proprio i turisti che promuovono cibo, panorami e soprattutto l'accoglienza. Ma siamo venuti qui in vacanza 4-5 giorni, tanto per rilassarci ci sta abbastanza bene insomma, pensavo fosse peggio sinceramente, sia con la gente che con tutto, insomma, abbastanza bene via. A luglio ci sono un sacco di spettacoli serali, agosto invece praticamente l'offerta serale è molto limitata. Godo questa bellissima solitudine. No, è stupendo, il posto è stupendo, è poco trafficato, si sta bene. Noi facciamo un giretto e comunque è bellissimo, un bel posto. I napoletani sono stupendi, anche le napoletane, dai. Il mare, Vesuvio, bello, piazza Proviscito, e il cibo, il cibo, spettacolo. Forse è anche la gente che è accogliente, la gente accogliente, cioè è una bella città. Molto bene perché la città è molto pulita, per cui rispetto al normale c'è meno traffico, c'è giornate belle, qualche locale chiuso ma non troppi, per cui si sta molto bene. E adesso andiamo a Benevento per scoprire la campagna, un bosco in città per contrastare lo smog. L'invito ha incassato subito l'ok anche del sindaco Clemente Mastella. Benevento non è priva di spazi verdi, ma alla messa a dimora di nuovi alberi sono tutti d'accordo. I cittadini aderiscono compatti all'iniziativa che si è diffusa ieri via social. Piantiamo un bosco a Benevento in un'area demaniale, la migliore opzione per tenere sotto controllo la qualità dell'aria e la temperatura della città. E' questo l'invito rivolto al sindaco Clemente Mastella, chiarendo che la politica si deve occupare non solo della contingenza ma anche del futuro delle nuove generazioni. Invito a cui immediatamente ha risposto Mastella. Non solo sono più che d'accordo ma a tempo fa proposi di piantare migliaia di alberi in città per aiutare a vivere con una qualità ambientale che ci libererebbe dalle ipoteche drammatiche attuali. Pronto a ricevere comitati o delegazioni e a discutere con loro ed altri per una operosità reale al riguardo. Ed anche tra i cittadini il progetto riscuote successo. Chiudere il traffico Benevento non è che diciamo che il problema potrebbe essere risolto piantando qualche albero in più. Penso che sia un'iniziativa importante, condivido. Sì, siamo d'accordo. Potrebbe essere un'idea, l'importante è la manutenzione del bosco perché tanti boschi che stanno in provincia di Benevento sono praticamente abbandonati a loro stessi e vittime ovviamente dei roghi dolosi, soprattutto d'estate. Bisogna un po' prevenire questo senso di curare di più l'ambiente, ecco qua, non tanto. Gli alberi ci sono, è una cosa sempre positiva poi, quando le cose si fanno. E' positivo. Intanto da Avellino gli esercenti scaldano i motori in attesa della pubblicazione del bando con tanti incentivi proprio per il commercio in città. E poi si punta al Natale per bissare i numeri da record del Ferragosto nel capoluogo. Angelo Giuliani. Slitta giovedì 22 agosto la pubblicazione del bando rientrante nei fondi PIX da un milione e mezzo di euro rivolto alle attività commerciali di Avellino. In un primo momento l'amministrazione festa aveva intenzione di pubblicarlo già domani. Poi però dopo la riunione di questa mattina del vice sindaco Laura Nargi con le associazioni di categoria si è deciso di rimandare di qualche giorno. Tutti i dettagli saranno illustrati dalla Nargi, che riveste anche il ruolo di assessore al commercio, in una contestuale conferenza stampa. Il contributo che erogherà il comune a fondo perduto sarà del 70% per le attività commerciali e turistiche e del 40% per quelle che operano nel sociale. È uno strumento legato anche ad evitare lo spopolamento da parte dei giovani che se ne vogliono andare e quindi magari che hanno delle idee belle, importanti, da poter mettere in cantiere. Un aspetto importante da considerare è sì vero che c'è il 70% a fondo perduto, ma c'è una quota di cofinanziamento da parte di chi vuole aprire l'attività del 30%. Quindi insomma è comunque una sorta di bando importante e che però è sicuramente riferito a chi veramente vuole mettersi in attività e favorire la nascita finalmente di imprese nuove nel centro storico, via l'Italia oppure via Francesco Tedesco. Soddisfatta la Confesercenti che già guarda la possibilità, dopo gli ottimi numeri di Ferragosto, di bissare con grandi eventi nel periodo natalizio. È già obiettivo delle associazioni sedersi poi a settembre con il Comune per cercare di creare qualcosa per il Natale, perché comunque l'Avellino deve essere esappetibile rispetto anche ai turisti, a chi viene da fuori. Torniamo nel Sannio dove i carabinieri dell'ispettorato del lavoro hanno proceduto a controlli accurati in Internet Point, Pub, Sale e Bingo in tutta la provincia sannita. Sette datori di lavoro sono stati denunciati per violazione della normativa antinfortunistica, per mancanza di autorizzazioni all'uso di impianto audiovisivo e per aver avuto alle proprie dipendenze un lavoratore senza permesso di soggiorno. Identificati complessivamente sette lavoratori in nero ha adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale contestate sanzioni amministrative complessive per circa 28.500 euro. E adesso cambiamo argomento, parliamo di ambiente, monta la protesta nell'agronoce rinosarnese per i miasmi che emana il fiume Sarno e gli altri affluenti a Nocera Inferiore. Il sindaco accusa la regione, vediamo perché. L'agronocerino sarnese si ribella all'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. In questi giorni si sono moltiplicate le proteste e le segnalazioni di miasmi e reflui nei corsi d'acqua che attraversano il territorio. Ad aprire il fuoco di fila è stato il sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, che è sceso nel letto del torrente Cavaiola per sollecitare Regione Campania e Gori a mettere in campo tutte le iniziative annunciate per la bonifica e la riqualificazione. Atti di simbolo, atti di protesta che accadono proprio in una giornata che tradizionalmente per tutti, un po' per tutti, sia per chi è in città sia per chi è fuori città, è dedicata allo svago. Non bisogna né trascurare né dimenticare quello che purtroppo accade. I fiumi sono per qualunque città civile luoghi di piacevolezza, c'è chi ci trascorre le vacanze, questo è un giorno simbolico per la vacanza degli italiani, c'è chi li attraversa, chi li segue, chi li percorre, chi fa una passeggiata lungo il fiume. In un momento che è obiettivamente di riflessione, di parentesi, di pausa, un po' per tutti, deve invece servire per noi in questa specie di vuoto del lavoro, delle attività, essere occasione di ricordo, di promemoria, di sollecito, anche in vista della imminente ripresa delle attività lavorative, a non dimenticare una questione che è assolutamente grave, importante. Odori nauseabondi e rabbia anche a Scafati, dove venerdì è in programma una manifestazione di protesta contro i miasmi. I residenti dell'agro si ribellano e chiedono di trovare una soluzione definitiva agli sversamenti nei fiumi del territorio, a cominciare dal Sarno. Edizione da record per il Tom Mariello d'Oro, che quest'anno è sbarcato ad Avellino in occasione del Summer Festival, premiati gli Irpini Lustri nel Mondo, musica e divertimento con una conduzione collaudata e d'autore, con Massimo Giletti e Angela Tuccia. Vediamo. 2019. Bagno di folla per il Tom Mariello d'Oro, che quest'anno ha trionfato lungo il corso di Avellino nell'ambito dell'Avellino Summer Fest. Applausi a scena aperta per l'attesissimo conduttore Massimo Giletti, affiancato da una bellissima Angela Tuccia. Un'edizione da record, quella firmata per la direzione artistica da Pina Moscaritolo. Credo sia un riconoscimento di tanti irpini che fanno cose incredibili, magari con cognomi sconosciuti ma vere, nel nostro paese. Che idea si è fatta di questa terra dell'osso, della zona interna della campagna? Una terra che ha intanto gente di grande cultura, di grande qualità, passione, gente che sa cosa vuol dire sacrificio, che ha lavorato duramente qua o all'estero, poi però è tornata. È una terra che il terremoto, per esempio, non è riuscito a distruggere. Tanti irpini premiati, dall'epatologo di fama internazionale Umberto Cillo, all'ingegnere Mario Bellizzi dei Vigili del Fuoco, fino al rettore di Perugia Maurizio Oliviero, a Gilda Maturo, figlia del compianto commissario Antonio, ucciso dalle BR, e Gianluca Basile, commissario delle Universiadi. Applausi anche per il parroco di Mercogliano, Don Vitaliano della Sala, premiato in questa nuova edizione. Il mio ambulatorio è una finestra sul mondo. Io incontro tantissime persone, tanti irpini, che vengono a curarsi a Padova, e ogni volta c'è una storia, c'è una famiglia dietro, ci sono delle necessità, spesso terribili, spesso molto importanti. Ci piace curare le persone proprio per la storia che c'è dietro di loro. Sono orgoglioso di ricevere un premio dalla mia terra, ma ovviamente mi piacerebbe che passasse di mano in mano le centinaia di volontari irpini, che sono l'orgoglio tutti insieme della nostra terra. Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione in città, grazie a Minognerre, perché nel tempo il Tonmariello ha conquistato un grande prestigio ed era opportuno che il comune capoluogo offrisse questo corso, questo splendido corso per questa stupenda manifestazione. Cambiamo argomento, torniamo a Benevento, parliamo di Movida e il rispetto della zona traffico limitato. Amministrazione e vigili urbani hanno scelto la linea dura, vediamo perché. Dalla Movida al rispetto della ZTL, a Benevento prosegue l'azione di controllo messa in campo dalla Polizia Municipale per verificare il rispetto dei divieti nel centro storico della città. Una task force ormai avviata da tempo con una serie di controlli soprattutto nei weekend. Verifiche che riprenderanno nel fine settimana prossimo e proseguiranno per tutta la durata di Città Spettacolo, ad annunciarlo il comandante Fioravante Bosco. La presenza di autovetture non autorizzate rende poco sicuro lo stazionamento dei giovani. Noi siamo stati molto precisi in questo periodo, abbiamo avuto ottimi risultati, continueremo. Già da venerdì e sabato stiamo di nuovo su strada, lo faremo per tutta la settimana prossima fino alla fine della Città Spettacolo. Credo che sia importante, ripeto, contemperare la sicurezza dei cittadini e fare in modo che coloro che abitano in quella zona siano in tutta tranquillità. Intanto da questa mattina sono ripresi controlli per monitorare il rispetto della raccolta differenziata, controlli che da oggi saranno mirati anche a contrastare l'abbandono dei cani e il rispetto degli amici a quattro zampe. Lavoriamo sulla questione dei rifiuti, della differenziata, perché era in valso l'uso di non fare la differenziata in alcuni quartieri della città. Stamattina abbiamo iniziato il nuovo progetto per controllare l'abbandono dei cani, per controllare se sono microcippati, se stanno in una condizione di benessere. Lo faremo tutte le mattine in servizio straordinario e in borghese. E adesso vi raccontiamo una buona notizia, ancora una schiusa di tartarughe caretta caretta nel Salernitano. È successo sul litorale di Eboli. Vediamo. Temperature sempre più alte e cambiamenti climatici anche in Campania, così quest'anno sono ben sette i nidi di tartaruga caretta caretta. Schiusisi nel Salernitano, uno a Eboli, cinque ad Ascea e uno a San Mauro, Cilento. Pochi giorni fa il lieto evento ad Ascea con la nascita di 29 esemplari. Nelle ultime ore le piccole testugini hanno preso il largo dal nido di Eboli, nascita in anticipo sui tempi previsti, come raccontano gli studiosi del Centro Ricerche Tartarughe Marine della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Quello che stiamo osservando con, da un lato, l'aumento, l'incremento numerico delle nidificazioni e dall'altro la riduzione dei tempi dello sviluppo embrionale è con ogni probabilità un risultato del cambiamento, del mutamento delle condizioni climatiche, l'innalzamento generalizzato delle temperature che si osserva negli anni, negli ultimi lustri in questa zona del Mediterraneo e più generalmente a livello globale, fa sì che le tartarughe possano finalmente utilizzare questo tratto di costa che storicamente non aveva condizioni idonee allo sviluppo degli embrioni e nidificare con successo, con tempi che vanno sempre riducendosi rispetto al passato. Ricordiamo ad esempio che nel 2006 qui in Campania, ad Ogliasso Marino, abbiamo avuto una schiusa di tartaruga marina dopo 67 giorni di incubazione che è avvenuto appunto il 10 di ottobre. Adesso siamo su periodi di incubazione inferiori ai 50 giorni. Loredana Bertè, Alessandro Siani e ancora Carla Brave sono alcuni dei nomi che saliranno sul palco della quarantesima edizione di Benevento Città Spettacolo. Si parte domenica sera. E ai nastri di partenza la quarantesima edizione del festival Benevento Città Spettacolo in programma dal 25 al 31 agosto per declinare il senso dell'essenza, tema scelto per l'importante anniversario dal direttore artistico Renato Giordano. Ci si aspetta che la gente vada a teatro, che venga nelle piazze, che venga a vedere la bella Benevento, che venga ad assaporare un bicchiere di falanghina. Poi tanta musica, tanto teatro, si parte con Siani, il 25 al teatro romano. Attesi anche Loredana Bertè, Nello Mascia, Moniovadia, Carl Brave, Pio Amedeo, i cugini di Campania. Ma Giordano non manca di indicare anche la strada per quel che riguarda il modo di accogliere il pubblico. I locali dovrebbero essere aperti fino a sera tarda, bisognerebbe lamentarsi di meno e fare più squadra e lavorare tutti insieme. Da meno puzza sotto al naso e più verso la gente, verso chi lavora e chi vuole fare le cose. Il momento più celebrativo del festival sarà però il premio Ugo Gregoretti Teatro, dedicato al papà della manifestazione da poco scomparso e per il quale Giordano annuncia un colpo di scena. Premio Ugo Gregoretti Teatro, prima edizione. Spero di aprire questa tradizione del premio e che non venga chiusa neanche dopo di me. Lasciarei questo premio proprio al teatro, senza contaminazioni di altro genere. Infatti il segnale è punto premio a Gabriele Lavia. Nei prossimi giorni ci sarà una sorpresa, che non vi dico adesso, appunto riguardo al premio. Da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione ad Aldo Fenizia in regia. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi c'è il Tg Sport con Carmine Quaglia. Grazie a tutti.